2 miliardi e mezzo di tagli nel 2015 a seguire nel 2016 e 2017 per arrivare a un complessivo di 10 miliardi di tagli al Servizio Sanitario Nazionale con un maxi emendamento ma è ormai il classico stile del governo Renzi, quello che quando deve dare le briciole, ricordiamo gli 80 euro che io ricordo anche a chi ci sta ascoltando sono se no un'ecografia perché mentre vi regala 80 euro vi toglie quello che può essere una prestazione che vi occorre alla quale non vi potrete sottrarre e che dovete andare a pagare va a levare 10 miliardi probabilmente per finanziarsi il nuovo spot elettorale dei tagli alle tasse quindi avremo la casa non pagheremo forse 200 euro però non abbiamo più garantito quello che è il servizio pubblico per come lo conosciamo questa è una cosa che piano piano ci siamo quasi abituati perché ci hanno tolto pezzettino per pezzettino ma questa volta si è esagerato io quando ho letto che sarà il ministro con un decreto ministeriale a stabilire quali sono le prestazioni appropriate per una patologia mi sono resa conto veramente che abbiamo toccato il fondo si bypassa quello che è il giudizio di un medico si bypassa quelle che possono essere le giuste ricerche diagnostiche per capire di cosa siamo affetti perché non è detto che uno si sveglia la mattina e ha un dolore alla parte destra quindi necessariamente ha un problema al fegato e basta un'ecografia forse c'è qualcosa di differente forse non so quanti di coloro che ci stanno ascoltando si sono trovati ad andare a fare una serie di analisi e non capire immediatamente di cosa si trattava io ho lavorato per anni in strutture private convenzionate di analisi cliniche dove ricerche diagnostiche sono durate anche mesi perché si va a tentativi non è detto che ogni volta oppure il ministro Lorenzini insieme al decreto provvederà di fornire ai medici una bella palla di vetro